Vangelo del giorno 25 ottobre 2021 dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù stava insegnando in una sinagoga in giorno di sabato. C'era là una donna che uno spirito teneva in ferma da 18 anni. Era curva e non riusciva in alcun modo a stare dritta. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse Donna, sei liberata dalla tua malattia. Impose le mani su di lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, prese la parola e disse alla folla Ci sono sei giorni in cui si deve lavorare. In quelli dunque venite a farvi guarire e non in giorno di sabato. Il Signore gli replicò Ipocriti, non è forse vero che di sabato ciascuno di voi slega il suo bue o l'asino dalla mangiatoia per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto a prigioniera per 18 anni, non doveva essere liberata da questo legame in giorno di sabato? Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute. Questa pagina di Vangelo ci mette ancora una volta in evidenza il grandissimo amore di Gesù per le anime, per le creature, per le persone che incontrava sulla strada e la chiusura, la durezza di cuore di chi appunto era ostile nei confronti della presenza e dell'atteggiamento di Gesù. C'è una donna che per 18 anni, per 18 lunghissimi anni, è vittima della possessione del male. Gesù ha compassione, Gesù si ferma e la guarisce. Quanto è brutto invece l'atteggiamento del capo della sinagoga che dovrebbe essere il maestro della compassione, il maestro della misericordia, il maestro dell'ascolto, il maestro e il testimone dell'amore concreto. C'è una parola bruttissima in questo Vangelo, si sdegna, quell'uomo è sdegnato per un bene fatto ad una donna. Ma quando si arriva a sdegnarsi per il bene che una persona fa e quando si arriva a combattere e a distruggere o cercare di distruggere il bene che una persona fa agli altri fratelli facendolo passare per male, per diabolico, contro Dio. Ma quanta cattiveria regna nel cuore dell'uomo che dice di amare Dio e di rappresentare lo stesso Dio. Che il Signore ci liberi da questi atteggiamenti, che il Signore ci salvi da queste chiusure di cuore, che il Signore ci liberi da questo non amore. Dobbiamo imparare da Gesù, dobbiamo imparare l'atteggiamento del Signore. E forse ogni tanto siamo un po' troppo distanti, nonostante giorno e notte ci professiamo cristiani e magari, chissà, tutti i giorni ci accostiamo all'altare del Signore.